Questo corso nasce da una interlocuzione con le imprese, in particolare con le imprese vicentine, presso i Vicenza Univr Hub, quindi questa struttura vicentina dell'Università di Verona, in collaborazione anche con il Dipartimento di Scienze Giuridiche e con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza. Le imprese vicentine, che però sono un modello di impresa anche per altre realtà del territorio italiano, ci hanno fatto presente l'esigenza di avere una formazione più avanzata per i professionisti e anche per il personale interno alle imprese che lavora con la contrattualistica. Quindi d'intesa, innanzitutto con il Presidente del Vicenza Univr Hub, il Professore Andrea Beretta Zanoni e con il Comitato Scientifico di altre professionalità accademiche, abbiamo messo in piedi questo corso che si occupa della contrattualistica, dei contratti per l'impresa dalla triplice prospettiva dell'economia, quindi dell'economia aziendale, del diritto privato e del diritto commerciale. È un qualcosa di innovativo e che non abbiamo visto in altre offerte di questo tipo. Quali sono i nostri obiettivi? Vogliamo aggiornare i professionisti, quindi innanzitutto avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, ma anche aggiornare e formare anche personale d'azienda. Quindi penso anche a semplici diplomati che però hanno già un'esperienza di lavoro nelle imprese, nell'ufficio legale o comunque nell'ufficio diciamo amministrativo e fornire quindi a tutte queste professionalità gli strumenti per cogliere o capire meglio l'importanza teorica e pratica operativa del contratto nell'organizzazione e nella gestione dell'impresa. Quanto alle modalità didattiche, noi abbiamo lezioni che si tengono tutte in modalità duale, quindi nella sede fisica di Vicenza in Viale Margherita, ma anche sempre con videoconferenza Zoom. Quindi è possibile partecipare anche interamente a distanza, cosa che hanno fatto nelle edizioni precedenti partecipanti provenienti anche da regioni d'Italia molto distanti. Sono lezioni sempre interattive e dialogate. Si tratta di sei giornate full immersion tutta la giornata. Il programma dettagliato, tutti i temi di lezione e tutti i relatori è pubblicato. Abbiamo un mix di docenti accademici e professionali collegato. Per quanto riguarda i professionisti, soprattutto nella parte finale del corso, sono avvocati che provengono in prevalenza dallo studio legale Gianni e Origoni, che è un punto di riferimento nazionale sulla contrattualistica di imprese. Pochi professionali? Beh, parte i crediti professionali. Qui abbiamo 20 crediti riconosciuti dal Consiglio Nazionale Forense, 48 crediti riconosciuti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e abbiamo vari enti che danno il loro patrocinio. Mi fa piacere dire che sia aggiunto anche l'ordine dei consiglieri del lavoro di Vicenza. Gli sbocchi professionali consistono nel fatto che noi vogliamo che i nostri partecipanti possano poi presentarsi con un titolo formale alle imprese, vicentine ma non solo, anche di altre realtà, come esperti di contrattualistica per l'impresa e soprattutto vogliamo che i nostri partecipanti abbiano acquisito competenze di base e avanzate sulla redazione e l'interpretazione dei contratti che più frequentemente riguardano l'impresa. È un risultato che ci sentiamo di poter assicurare alla luce del successo delle edizioni precedenti. Quindi in conclusione io sono convinto di presentarvi un corso molto interessante e utile. Grazie molte.